Immaginate un giorno che avete tutti i pari diritti. Ma perché dobbiamo essere scemi? L'agenda aspetta risposte. A me la mano, ma la faccio tagliare. Io la alzo solo per cose positive. L'uguaglianza qua, io sono consigliere comunale, consigliere della gente. Sono un consigliere del popolo. Io faccio politica per passione, non vi piace, non vi piace. Parliamo di cambiamento, di novità, di guardare avanti, di posti di lavoro. È una vergogna, la sanità è politicizzata. È la presa per i fondelli che noi dobbiamo subire ogni giorno. Questi qua non possono parlare. Lo so che sono una folle, ma non me ne vado. Il mio impegno è costante da 20 anni, sempre dalla parte dei cittadini e dei più deboli. Le mie priorità sono sanità, legalità e lavoro. Su questo ci metterò l'onestà, la passione, il cuore.